Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mani e oggi sono qui con il post partita di Turchia Italia Partita finita per 3-0 in favore di noi azzurri Allora, questa era la prima partita proprio di Euro 2020 perché appunto per chi non lo sapesse Oltre ad essere la prima partita ad Euro 2020 dell'Italia, era proprio la prima partita degli europei di quest'anno E quindi all'inizio, non so se avete visto, è arrivato Bocelli a cantare, è arrivato Martin Garriz Anche se non era all'Olimpico però hanno fatto sentire We Are The People che è l'inno di questi europei E poi niente, quindi c'è stato un po' di... cioè prima della partita una sorta di inaugurazione di questi europei Comunque ora, andando ad analizzare la partita Nel primo tempo l'Italia ha giocato bene, c'è da dirlo, ha giocato bene l'Italia Solo che le azioni dell'Italia si spegnevano, che erano belle comunque tranne il centrocampo che nel primo tempo ha faticato Soprattutto Barella faticato e invece Giorginio Giorginio veramente è un giocatore incredibile, un centrocampista veramente incredibile Perché è fenomenale, anche perché non è un caso che abbia vinto la Champions League quest'anno Ha dato veramente un grande aiuto al Chelsea in questa vittoria E quindi complimenti a Giorginio Anche se non guarderà mai questo video però fa niente E quindi nulla, Locatelli invece oggi Locatelli mi aspettò di più da Locatelli soprattutto per la Nations League che ha fatto Però fa niente, comunque avrà sicuramente occasione di riprentersi Locatelli che è un calciatore che mi piace tantissimo personalmente E quindi nel primo tempo la Turchia ha fatto catenaccio ma proprio di quali potenti Però a dire il vero anche la Turchia ha fatto le sue belle azioni che hanno messo in difficoltà l'Italia Poi c'è stato un rigore netto, non dato rigore netto, non dato veramente l'arbitro L'arbitro o è cieco o era a favore della Turchia Non c'è una terza opzione, una via di mezzo Perché veramente c'è il pallone ha toccato prima il piede Poi dopo è andato nettamente sulla mano qui sul braccio Cioè all'incirca sul polso E come fa a non dare rigore scusami Ma io dico Ma vabbè Fa niente Questa qui gliela perdono Non è vero, non gliela perdono Perché comunque non puoi non dare un rigore del genere Per me, non lo so Non voglio dire che era a favore della Turchia Che la Turchia La Turchia ha ladrato questa partita Anche perché l'abbiamo vinta noi Ladrata di che cosa Però comunque non ha dato un rigore netto Quello c'è da dire Quindi non glielo perdono Perché non puoi non dare un rigore del genere Comunque niente Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0 E quindi nel secondo tempo la situazione è cambiata Allora è entrato un Der Quindi c'è stato comunque due ripartenze assurde di un Der Veramente che mi hanno spaventato tantissimo Avevo paura che segnasse Perché un Der è stato incredibile Cioè veramente che corso ha fatto Cioè ha fatto due ripartenze Due cavalcate Veramente che io non so a chi paragonarlo veramente Perché è stato incredibile un Der Non lo si riconosce più rispetto a quando era in Italia E quindi complimenti ad un Der Nonostante io sia italiano E quindi comunque faccio i complimenti ad un Der E poi dopo vabbè la situazione è cambiata Poi oggi Spinazzola Spinazzola Complimenti a Spinazzola Veramente complimenti Perché Spinazzola è un terzino Veramente a mio modo di vedere E con i fiocchi Era andato a fare le visite mediche dell'Inter Tra l'altro qui ho la maglia dell'Inter Dettagli Che era andato a fare le visite mediche Doveva scambiarsi con Politano Poi era saltato l'affare Era successo un casino Io ci rimasi malissimo Perché Spinazzola Da quando era andato alla Juventus Che l'avevo conosciuto Nell'annata 2018-2019 Avevo capito che era un ottimo terzino E quindi complimentoni a Spinazzola E quindi niente Spinazzola ha fatto una grande partita Punto Poi dopo Durante una nostra azione Pallone dentro Autogol Autogol Di Mary De Miral E sapete qual è la cosa più bella di tutte Che De Miral gioca nella Juve Gioca nella Juve Mary De Miral Quindi è stata proprio Cioè Veramente è stata una goduria eccezionale Perché sul serio De Miral che gioca nella Juve Che si fa un autogol E che ci porta in vantaggio Che porta in vantaggio l'Italia E' veramente bellissimo E quindi Grazie a De Miral Grazie di tutto Mary De Miral Veramente Grazie Poi dopo Va bene l'Italia lì si è scatenata Ha fatto un calcio Champagne Veramente complimenti All'Italia di Mancini Complimenti a Mancini Perché ha tirato Su una nazionale Che non si era qualificata A un mondiale Dopo 60 anni Dall'ultima volta E quindi è riuscito A tirare su Una nazionale Veramente Disastrata In tutti i settori E quindi Il Mancio Già come allenatore Mi piace tantissimo Ma comunque Veramente Con la nazionale Ha fatto un'impresa E sta facendo Un'impresa Perché la sta tirando su E io ci credo Nella vittoria Dell'europeo Sono uno dei pochi Tifosi Che crede Nella vittoria Dell'europeo Anche se ci sono nazionali Obiettivamente più forti Di noi Come il Belgio L'Inghilterra La Francia Queste nazionali Qua Secondo me Se dovessi scommettere Su chi vincerà L'europeo Direi il Belgio Comunque Tornando a noi Tornando alla partita Secondo gol Secondo gol Ripartenza del solito Spinazzola Pallone dentro Il portiere Della Turchia Parama Non tiene lì C'è lì Ciruzzo Tac E Ciruzzo Torna a segnare Ufficialmente Con la maglia Dell'Italia Grande Ciro Veramente E' tornato Il bomber Della nazionale E non posso Che dire Grazie Poi dopo Terzo gol Lorenzino Insigne Lorenzino Lorenzino Insigne Su una ripartenza Veramente Complimenti A Insigne Perché Ha segnato Hanno segnato I due napoletani I due che erano Insieme al Pescara E che Appunto Al Pescara Hanno giocato insieme Anche in squadra Di club Complimenti A Insigne Perché dopo Dopo il gol Del 3 a 0 Avevo capito Che era fatta Che non ci Che non ci Recuperavano più Quelli Perché veramente Erano Erano lì mezzi morti Che non ci potevano più Recuperare E quindi Avevo capito Che era fatta Poi dopo Niente Abbiamo tenuto il pallone Negli ultimi 15 20 minuti E lì Ci siamo portati a casa La partita Ora 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 Diciamo che Un esordio così Non me L'aspettavo Perché Io pensavo Anzi Ta Vedi lì Che è la prima partita Di una competizione europea Importante Dopo Il disastro Della non qualificazione Mondiali Vuoi vedere Che cosa qui La perdiamo O la pareggiamo E alla fine Ci costerà La qualificazione Ci costerà La qualificazione Perché comunque Nonostante Io Ci ho sempre creduto Alla vita dell'europeo Solo ieri Sono diventato In In Cioè In un secondo Pessimista Perché io sempre Il giorno prima Delle partite Sono sempre Pessimista Magari una settimana Prima Sono ottimista E invece il giorno prima Sono pessimista Molto pessimista E Invece Niente Dopo Quando Già quando è arrivato il gol Del 2-0 Avevo capito Che lì Era quasi fatta Ma quando è arrivato il 3-0 Saluti e baci Addio E quindi Niente Tre punti Che ci portano Non ancora Agli ottavi Però ormai Cioè Se pareggiamo Con la Svizzera Poi Comunque È fatta Già Se pareggiano Galles E Svizzera Allora Lì Siamo praticamente Siamo praticamente Agli ottavi Non ancora Ovviamente Matematicamente Ma Se pareggiano Galles E Svizzera Allora Non dico Che è fatta Però Comunque In ogni caso Sarebbe Un grande Vantaggio E Quindi Niente La prossima partita Con la Svizzera Che Nonostante La Turchia Sia forte Nonostante La Turchia Abbia Dei buoni Giocatori È più forte La Svizzera Della Turchia E quindi Niente Sarà una partita Più insidiosa E però Ci proveremo E sono fiducioso Soprattutto dopo Questa partita E poi Ci avremo Il Galles E Forza Ragazzi L'unica cosa Che mi rimane Da dire Forza Italia Andiamo Andiamo a portarci A casa Questi Europei Oppure Sarebbe bello Anche arrivare Perlomeno ai quarti Sarebbe bellissimo Veramente E niente ragazzi Io vi saluto Noi ci vediamo Il 17 Con il post partita Di Italia Svizzera Ciao a tutti